Cinque anni fa l'acqua lambiva il piano stradale. Era sostanzialmente a 30-40 centimetri da dove siamo noi adesso. Qui era tutto lagato. Un ricordo bruttissimo. Speriamo che questo preallarme che ci ha inviato alla regione attraverso il bollettino non si concretizza ancora con un'emergenza di quella portata. Inevitabile tornare a Vaia e alla sua portata distruttrice qui a Zenson, dove sono circa 20 le famiglie residenti in area golenale, tantissimi campi coltivati dalle Viti al Kiwi, tanti anche i sentieri in uno dei teatri più evocativi del primo conflitto mondiale. Il dialogo tra sindaco e protezione civile in queste ore è continuo. Lo stesso Dallanese con il referente delle tute gialle Gaudenzio Cason è stato in sopralluogo nella zona di Via Caduti in Guerra. Attiva anche la polizia locale che fa riferimento al comando di San Biagio. Stiamo valutando in base ai dati che ci stanno fornendo se è il caso di aprire il COC e in che momento aprirlo. Il gruppo comunale di Zenson di Piave siamo 27 volontari. Stiamo valutando minuto per minuto insieme anche con i colleghi sindaci e con il genio civile ed eventualmente vedendo anche poi la quantità di acqua che questa notte scenderà oppure no valuteremo di aprirlo eventualmente questa notte o domani mattina. In ogni caso le famiglie dell'area golenale sono già state avvisate porta a porta. Un alert specifico è stato diramato anche a Salgareda. Noi ieri sera con il coordinatore e gli altri volontari del gruppo siamo passati famiglia per famiglia. Ieri pomeriggio appena era arrivato il precedente bollettino che oggi è stato confermato avvisando che ci poteva essere una criticità da questa sera a domani. Noi abbiamo un buon rapporto con i residenti dell'area golenale e abbiamo voluto di persona andare a spiegare bene senza creare inutili anarmismi però comunque informarli sulle eventuali possibilità.